Leonardo Silva Revisorek Quando mi sono avvicinato ai social network, ho pensato che avrei capito meglio la tecnologia che sta alla loro base. In realtà, quello che credo di avere capito meglio in questi dieci anni di lavoro sui social, sono le persone, gli esseri umani. I social network sono importanti strumenti di comunicazione. Se ci pensate bene, noi comunichiamo durante tutta la nostra vita in continuo. Anche quando siamo da soli, abbiamo bisogno di parlare fra noi stessi o di pensare. La comunicazione è vita. Nella vita reale è più semplice, sui social network. La comunicazione, la nostra esistenza, c'è quando noi postiamo. Per questo dico digito ergo zoom. E le conversazioni si stanno spostando. Si spostano dalla vita reale alla vita digitale. Avvengono online, in maniera significativa. Io mi ricordo quando ero bambino e andavo a fare la spesa con mia mamma. Quanta conversazione nel passare da un negozio all'altro. Adesso faccio la spesa la domenica mattina online, e se voglio parlare con qualcuno e ho voglia di discutere, alle volte mi sposto sui social network. E se abbiamo qualcosa di importante da dire, i social network possono essere il posto giusto. Sappiamo che siamo quasi a 4 miliardi di persone che hanno connettività online. Quindi se abbiamo dei messaggi importanti da lanciare, i social possono essere un posto in cui troviamo un audience, un pubblico che è interessato ad ascoltarci. Social network, parliamo di Facebook, parliamo di Twitter, quelli più generalisti. In realtà i social network sono molto vari e declinabili, a seconda anche delle attitudini degli utenti. C'è chi costruisce contenuti e li condivide, chi usufruisce di contenuti e chi fa entrambe le cose. E allora Instagram per le fotografie, YouTube per i video, e così via. L'opinione pubblica sta incominciando a discutere significativamente online. Un esempio che a me piace molto e che voglio riportarvi è quello di Eni durante una puntata di Report, un programma RAI dedicato proprio a Eni, decide di tenere allerta attivo il proprio social media team. Quindi ci immaginiamo un modo su Twitter di fare informazione complementare o controinformazione. Mentre i cittadini guardavano la televisione potevano fare domande a Eni su Twitter, ricevendo delle risposte. Io sono un ricercatore, anche per me sta cambiando il modo di lavorare. L'Unione Europea e i finanziatori ci chiedono di non passare tutto il tempo chiusi nel nostro laboratorio, ma di imparare a valorizzare i risultati della ricerca. E la Carta Europea del Ricercatore ci dice che dobbiamo farlo generando e trasferendo e condividendo tecnologia. I brevetti sono un esempio, ma un esempio molto interessante è quello di imparare a comunicare i risultati ai cittadini europei, imparare a comunicare la scienza, per migliorare la percezione dei ricercatori e della ricerca e contemporaneamente fare cultura scientifica. I ricercatori diventano importanti in questo. I dati che vi mostro sono dati di un sondaggio Ipsos Mori del 2014, fatto in Gran Bretagna come rappresentativa dell'Europa. Adesso, pensando alla Brexit, insomma, non sappiamo quanto sia veramente rappresentativa. Ma i dati sono importanti e significativi. ci dicono che la maggior parte degli intervistati ritiene che i mass media sensazionalizzino la scienza, cioè non facciano un racconto etico dei ricercatori e della ricerca, ma tendano a attrarre visualizzazioni ed attrarre lettori. Mentre dicono un'altra cosa molto importante, che oltre il 90% crede che noi ricercatori siamo le persone giuste per raccontare a voi, a tutti, la ricerca, le modalità ed i risultati. I social network sono strumenti potentissimi. Sono in grado di influenzare la distribuzione dell'informazione. Questa mappa ci mostra i principali social network nel mondo. Vedete che la gran parte è blu. Blu significa Facebook. Facebook significa tante cose. Significa Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger. Un'enorme rete di comunicazione sociale, diffusa, come vedete, in gran parte del mondo. E allora già nel 2015 succede una cosa molto interessante. Succede che le testate online delle riviste che sono nate in maniera cartacea, Corriere della Sera Repubblica, sono ancora prime come numero di accessi. Ma piano piano, e neanche tanto piano piano in realtà, arrivano i nativi digitali. City News e Fan Page, ad esempio, che utilizzano i social network come volano per la diffusione dei propri contenuti. Una cosa che fa specie è vedere ANSA, la principale agenzia di stampa italiana, incastrata tra due nativi digitali. I social network sono anche delle piattaforme pubblicitarie, quindi hanno pesanti implicazioni psicologiche, sociologiche ed economiche. Tante volte, quando ci sono notizie negative associate ai social network, sentite incolpare i social, il cyberbullismo, le fake news. In realtà non è così. I social utilizzati male possono favorire certi comportamenti, che però sono comportamenti connaturati all'uomo. Negli anni 70 del secolo scorso, Philip Zimbardo fece un esperimento molto importante, l'esperimento carcerario di Stanford. Prese delle persone che avevano deciso di partecipare, le mise in un finto carcere e tolse loro la propria individualità, dividendoli in gruppi, un gruppo di carcerati e un gruppo di guardie. In quel caso l'esperimento fu fermato dopo pochi giorni per la violenza che si sviluppò in questo carcere simulato. dimostrò questo che quando noi non operiamo secondo la nostra responsabilità individuale le dinamiche di operazione in gruppo sono diverse e le connotazioni spesso sono negative. Aggressività, crudeltà. Ora pensate ai social. Su alcuni social possiamo essere anonimi, possiamo agire attraverso uno pseudonimo e operare per gruppi politici, sportivi. E allora vedete che possono favorire certi comportamenti che già negli anni 70 del secolo scorso, quando internet non esisteva erano ben identificabili. Spesso vi dicono i social network contengono spontaneità e immediatezza. In realtà le grandi campagne di comunicazione social sono molto studiate e ricercate a tavolino. E allora quando siamo sui social cosa succede? Abbiamo una rete sociale di persone, i nostri amici, la nostra rete. E questa rete è bella ma contemporaneamente è una bolla, è una bolla informazionale perché le persone che selezioniamo ci assomigliano, sono amici, magari sono compagni di scuola, hanno il nostro livello culturale, la nostra estrazione sociale. Rischiamo di vedere soltanto una parte delle notizie e di confermarci tra noi che sono il punto di vista giusto, l'unico punto di vista che esista. Quindi vanno utilizzati tenendo conto che c'è molto altro oltre a quello che vediamo. Dan Ariely, che è un economista comportamentale, fa una domanda, dice come una mela marcia può influenzare le altre mele di un barile e noi possiamo portarla ai social network e dire se una persona che all'interno della nostra rete si comporta in maniera non corretta, non etica, ci influenza? E la risposta dei suoi esperimenti è ci influenza molto se è una persona considerata in group, cioè se è una persona considerata appartenente al nostro gruppo sociale, mentre se è una persona out group che non riconosciamo come del nostro gruppo sociale, viene più che altro stigmatizzata, non viene presa ad ispirazione. Allora dobbiamo fare molta attenzione anche a questo. Una cosa molto bella dei social network è la bidirezionalità. Se pensate ai mass media sono sordi, parlano, radio, tv, stampa, ma non ascoltano. Il social network ci permette di raccontare qualche cosa, ma contemporaneamente di sentire e catturare le istanze delle persone che ci seguono. E allora anche per noi ricercatori questa cosa diventa importante, perché la ricerca e innovazione responsabile richiede di raccontare le nostre attività ai cittadini, alle persone interessate, ma anche di catturare le loro istanze per indirizzare in maniera armonica le attività di ricerca. E allora dal basso si può parlare. E allora le persone che prima non avevano parola possono dire. E quando Tim Hunt, premio Nobel, per alcuni esperimenti sul ciclo cellulare, alcuni dati sul ciclo cellulare, rilascia questa dichiarazione, viene attaccato dalle ricercatrici femminili, dalle donne. Lui cosa dice? Dice se in laboratorio ci sono uomini e donne succedono tre cose. Tu ti innamori di loro, loro si innamorano di te, poi tu le critichi e loro piangono. Per cui sarebbe meglio avere laboratori separati, gli uomini da una parte e le donne dall'altra. E le ricercatrici si arrabbiano molto. Fanno partire una campagna social, distractingly sexy è l'hashtag, e ironizzano o addirittura sono sarcastiche nei confronti di questa dichiarazione. Pochi giorni dopo Tim Hunt si dimette dall'università in cui insegnava. La Royal Society lascia contestualmente una dichiarazione dicendo che è molto importante rimuovere tutte le discriminazioni per l'accesso al mondo della ricerca. Quando parlate di qualcosa di importante arriva qualcuno di solito che vi dice ma no, 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 le cose non sono come dici tu, so io come sono. Questo si chiama effetto Dunning-Kruger. Questi due studiosi dimostrarono che noi abbiamo una percezione di quello che sappiamo falsata da un bias cognitivo. meno sappiamo di un argomento, più tendiamo a ritenerci esperti su quell'argomento. E allora c'è una conversazione su internet che parla di malattia e arriva un utente e dice questa malattia si cura col bicarbonato bio, io lo provo e con me funziona. E un altro utente chiede che cos'è il bicarbonato bio? E lì ci si accorge di essere in pieno effetto Dunning-Kruger. La definizione di bicarbonato viene copiata da Wikipedia e per quanto riguarda il bio l'utente risponde eh, bio sarà quello purificato dall'acqua non inquinata. Il bicarbonato è un prodotto di sintesi, non è un prodotto che si purifica dall'acqua. Stava consigliando una cura senza sapere nemmeno quello di cui stava parlando. I nuovi media possono avere impatto più grande ancora dei mass media sulla società civile. Un esempio è quello del 2016 virus. Roberto Burioni viene invitato a un virologo dell'Università Vita e Salute milanese a parlare di vaccini. Quando lascia lo studio è arrabbiato, a disappunto, torna a casa, scrive un post su Facebook e racconta perché non era contento di come era stata svolta la trasmissione. Riteneva di non aver avuto abbastanza tempo per parlare, per spiegare, per discutere. La trasmissione fa un milione e duecentottantamila spettatori secondo i dati Auditel. Il primo post di Roberto Burioni fa oltre due milioni di lettori. La settimana successiva viene modificato il palinsesto e vengono dati 40 minuti circa a Burioni per parlare di vaccini in studio. La comunicazione social sfrutta dei meccanismi particolari, punta molto sull'engagement e sull'emozione, sull'emozionalità, sull'immagine. Questo lo vediamo anche, sempre parlando di vaccini, quando agisce Unicef. Unicef fa dei post molto razionali, ma accanto ai post razionali fa post come questi, molto emozionali. Ci fa vedere bambini malati di poliomielite nel 1937, se non ricordo male, comunque il secolo scorso, in un polmone d'acciaio per la respirazione assistita. Ci fa vedere qualcosa che noi non possiamo vedere più, ma che è importante tenere presente. E allora parliamo di emozione, parliamo di emotività, parliamo di empatia. E gli esperti ci dicono una cosa molto importante, ci dicono attenzione, perché ogni volta che comunicate, facendo una mediazione attraverso il computer, e quindi il computer, ma anche i nostri cellulari, i social network, spegnete l'empatia, perché non vedete le persone con cui state parlando, perché non vedete le reazioni che provocate nel vostro interlocutore, piacere, soddisfazione, sicurezza, dolore. E questo ci rende meno empatici, ci rende più aggressivi e ci fa sentire protetti da quello schermo di vetro che filtra i sentimenti positivi o negativi che siamo in grado di suscitare nelle persone. Allora Sherry Tarkole racconta in uno dei suoi libri questa storia dei robot sociali a cui cerchiamo di dare empatia. Questo cucciolo di foca, molto empatico, un piccolo robot che sente la direzione della voce, sensibile al tatto, e questa donna in una casa di cura, lasciata dal figlio lì nella casa di cura perché non andavano più d'accordo, che empatizza con il robot. E parlando con il robot trasferisce le proprie sensazioni, i propri sentimenti, dicendo «eh, sarai triste, sarà un momento triste, oggi è una giornata così». Sherry Tarkole guarda da fuori e dice una cosa molto importante, questa donna era completamente sola, il figlio l'aveva lasciata e noi, persone, l'avevamo abbandonata. Un robot non può capire questo tipo di dolore. Questa empatia è simulata, nascita, dolore e morte non sono cose comprensibili da una macchina per come sono comprensibili a noi. e quindi quello che dobbiamo ricordarci è che i social network possono essere uno strumento veramente grandioso. Per noi ricercatori sono la possibilità di costruire contenuti come noi desideriamo che siano costruiti, per raccontarvi realmente quello che facciamo tutti i giorni, in positivo e in negativo. Le difficoltà e le frustrazioni fanno parte di questo. Contemporaneamente possiamo anche essere editori di noi stessi, quindi decidere le modalità con cui pubblichiamo i contenuti. Questo capite che è uno strumento incredibile, di una potenza veramente notevole. Quello che dobbiamo ricordarci ogni volta che utilizziamo questo strumento è che dall'altra parte dello schermo ci sono delle persone che hanno delle paure, delle speranze, delle aspettative, esattamente come noi, esattamente come tutti voi, soltanto ricordandoci questo in ogni interazione, in ogni post, in ogni possibile atto comunicativo, faremo in modo che i social network siano una grandissima occasione da non mandare sprecata. Grazie.